Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio, con il calcio giovanile. Si è giocata oggi a Viareggio la finalissima della 66esima Coppa Carnevale tra Milan e E' stata l'edizione delle novità, la numero 66 che ha visto quattro formazioni, Mila, Inter, Juventus e Fiorentina subentrare dagli ottavi. Il Milan vince, era dal 2001 che non scriveva il suo nome nell'albo d'oro, ha battuto l'Enderlec riscattando la sconfitta dell'anno scorso e portando a nove i successi stagionali. Sono per 3-1 il risultato finale che ha visto addirittura in svantaggio la formazione di Pippo Inzaghi, passata in gol l'Anderlec al 18esimo del secondo tempo con l'Eaia. Il pareggio di Petagna al 26esimo, davvero un euro goal. Si va ai supplementari 1-1 ed è dopo 5 minuti che Fabbro porta in vantaggio il Milan sul 2-1. Si fa anche spellere perché si toglie la maglia da Gian Munito. Nel frattempo erano già stati espulsi due giocatori, uno per parte. Al dodicesimo è Mastelli che su assist proprio di Petagna fissa il punteggio sul 3-1 quando è già poteosi. Carnevale rosso-nero con Pippo Inzaghi che ci teneva a vincere questo torneo che l'aveva vista anche protagonista dal calciatore. No, 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 ma sono bravi ragazzi. Siamo al mio staff abbiamo fatto un buon lavoro ma il merito è loro. Diamo il merito a questa squadra che quest'anno sta facendo cose straordinarie. Oggi è la partita che rimarrà nel loro cuore e se lo meritano, dai. Il commento alla domenica calcistica di Lucchese e Viareggio entrambe in trasferta e particolari nel servizio che abbiamo preparato. Al Ballarin di Chioggia la Lucchese rifila un altro poker, stavolta la Clodiense si rimantiene nella scia della capolista Correggese, a sua volta vittoriosa 4-3 con qualche brivido finale sul campo del Limolese. Sulla laguna veneziana il rossonere ha un approccio giusto e tonico tanto che dopo una decina di minuti il match è già indirizzato in modo inequivocabile. Dopo un mese spiccioli Matteo Nolessi ripresenta così nel solito modo incursione furba sottoporta, piattone di destra ed ottavo sigillo stagionale per il centrocampista di San Mignato. Qualche minuto più tardi non vuole essere da meno Andrea Calistri, sempre più difensore, incursore e goleador e sono sei. Insomma un bel viaggiare che poi punteggio nella ripresa assume dimensioni robuste grazie all'accelerazione di Chianese e Caboni e ai relativi rigori trasformati da Tarantino andato in doppia cifra e dallo stesso attaccante Sardo in pieno recupero. Ne consegue che nulla muta al comando della classifica e che le finali adesso rimangono solo undici. Nisba per il Viareggio a Frosinone, nonostante una gara più che apprezzabile le zebre subiscono la legge del Matusa, che non è un anziano signore bensì l'ermetico fortino della capolista solitare del campionato. Peccato perché nonostante le gravi assenze i bianconeri di Lucarelli hanno sciorinato un buon calcio, condito da una personalità che altre volte non si era vista. Andato sotto in modo sollecito su rigore di Curiale, il Viareggio ha saputo rialzarsi ed è pervenuto al meritato pareggio nella ripresa con Galassi, uno dei migliori. Poi ha colpito anche una clamorosa traversa, ma una manciata di minuti dalla fine si è ritrovata ancora sotto per un gol di Carlini. Zero punti in saccoccia, ma la consapevolezza di guardare la prossima gara con fiducia. Sabato, in anticipo causa carnevale, arriva la Salernitana. Ecco la giusta occasione del riscatto. Grazie a tutti. 35esimo nel primo tempo di Muslimovic. L'Ippi aveva chiesto in vano il rinvio della gara, dato che il Guansù era reduce da un duro periodo di preparazione in Spagna. Per protesta con la federazione, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha mandato in panchina il suo vice Fabrizio Del Ro. Siamo al basket. Il principe Bama delle ultime tre gare da favola ritorna di nuovo Ranocchio, come all'inizio del campionato. Cede in volata, 66-63 sul parchè di Fucecchio, ma lo fa al cospetto di una squadra con rotazioni sotto il minimo sindacale, causa l'assenza di Cacioli e Loni. Qualcuno in casa rosa blu parlava già di playoff, questo Bama invece deve probabilmente solo pensare a salvarsi e se giocherà in questo modo, domenica prossima, corre il rischio di rimettere in corsa anche Ponte d'Era. Siamo all'Ok per ricordare che appena è il tempo di archiviare una giornata importante che ha visto il Forte De Marmi capolista pareggiare sulla pista del Breganze, che la stessa capolista, Forte De Marmi, si accinge a vivere una settimana piuttosto intensa. Infatti martedì sera dovrà affrontare per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A 1 l'amatori Sporting Lodi, quindi un avversario comunque sempre ostico, sempre insidioso, anche se il Forte De Marmi di questa stagione, che guida la classifica con sei punti di vantaggio sul Breganze, davvero fa sognare i suoi tifosi. Poi sabato, sabato prossimo 22 di febbraio, il Forte De Marmi tornerà in pista per vedersela contro il Turquel, squadra portoghese, che all'andata ha messo in serie difficoltà il Forte De Marmi, battendolo, il Forte De Marmi adesso dovrà recuperare, chiaramente quella rosso-blu di Croce Crudelli, una squadra che ha la possibilità di poter recuperare in palio, vi ricordo, c'è la qualificazione alla Final Four di Coppa Cers. Siamo ai motori, parliamo di motori e del 33esimo rally del Carnevale, vediamo com'è andata. Dominio assoluto di Nicola Caldani, per la prima volta in coppia con Michele Perna sul Mitsubishi Ranser Evo 9 al 33esimo rally del Carnevale. Il pilota versiliese, trapiantato a Lucca, ha fatto capire le sue intenzioni fin dalle prime battute di gara, riuscendo ad aggiudicarsi i primi passaggi, sia dello zoccol e soprattutto l'umido ed insidioso Forci, dove ha preso un vantaggio consistente. Caldani si è giudicato quattro delle sei prove in programma, lasciando al Lombardo Gianesini una speciale, l'altra al giovane velocissimo Panzani, che è riuscito a accogliere addirittura la terza piazza. Costante e veloce anche il due Gianesini-Fulvione, la prima gara in terra toscana. Il binome Lombardo ha sempre mantenuto la piazza d'onore, riuscendo a ben adattarsi al percorso allestito dalla Balestrero, per un'edizione del Carnevale per la prima volta ospite dell'entroterra lucchese. Diversi ritiri eccellenti, Gaddini fuori dalla prova d'apertura, Galliani-Galeotti su Renault Clio Super 1.600, usciti in questo modo spettacolare, ma per fortuna non drammatico sulla quarta prova. Ed ancora Lenci, fermo per noi elettriche, rientrante Ciuffi per rottura del differenziare, e gli attesi fratelli Vittorio e Federico Barsotti, quest'ultimo sfortunato navigatore, che riporta i gravi danni conseguiti al Valli Piacentine del 2010, è ritornato alle corse proprio nella gara di casa. I due fratelli sono stati traditi però dalla rottura di un semiasse nelle prime battute di gara. Prossimo appuntamento per la scuderia Balestrero Rally di Cascianaterno, in programma il 17 e 18 maggio, anch'esso valevole per il neonato trofeo Mickey Mouse Open Rally, che proprio al Carnevale ha mosso i suoi primi passi, e che ha già riscosso numerosi consensi tra gli appassionati delle quattro ruote toscane. Atletica e kickboxing per chiudere, due notizie di Atletica, la prima riguarda la mezza maratona di Verona, Giulietta e Romeo, giunta alla settima edizione, col dominio, che era valida anche come campionato italiano della specialità, col dominio dell'atleta del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, il keniano William Kibor, che tra l'altro con il tempo di un'ora e 51 secondi, ha stabilito il nuovo primato della competizione e ha stabilito soprattutto una prestazione di alto livello, di alto contenuto tecnico. Da segnalare che al secondo posto si è piazzato Daniele Meucci, che dunque si è giudicato il titolo italiano, e intanto all'undicesima maratona città di Scandicci, Girali Ciamali, sempre del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, ha vinto il suo campionato italiano, precedendo di 12 secondi, con il nazionale Sham Midar, e fermando il cronometro, qui il tempo un po' più alto, un'ora 10 e 58, sempre per l'atletica, ancora un successo a metà per Stefano Gori, al meeting indoor al Palafiori di Genova, Gori ha provato a migliorare sui 60 metri il tempo che aveva ottenuto a Firenze a metà gennaio, ma l'ha sfiorato solo di 3 centesimi, infatti affiancato dalla guida Francesco Niccoli, si è fermato a 8,81 secondi, Stefano vuol fare una dedica in particolare su questo suo successo, comunque alla famiglia Berni di Ghivizzano, e in particolare al Lamberto, con un grosso in bocca al lupo. Chiudiamo con la kickboxing, bella vittoria di Zaccaria Murschid, della Profight 1 di Lucchia, che al Palasport di Borgo Abugiana, battuto il rumeno Silvio Podario, in un fondamentale match di Muatai, l'allievo del maestro Cristiano Lenzi, si è così guadagnato la qualificazione ad Octagon 2014, una delle più grandi manifestazioni internazionali di sport da combattimento, che si svolgerà il prossimo 5 aprile al Forum di Assago di Milano. Complimenti a Zaccaria Murschid, che a suo tempo abbiamo avuto anche ospite dei nostri studi, per questa qualificazione ad un torneo davvero prestigioso come Octagon. E con le arti marziali, con la kickboxing, si chiude anche la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto, dopo una breve pausa pubblicitaria, il TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi, la più cordiale, Buonasera.